Il reddito di inclusione è la prima misura universale di contrasto alla povertà in Italia. Le persone che sono in uno stato di fragilità economica e sociale possono presentare la domanda nel proprio comune di residenza o nei punti di accesso individuati dal comune. La misura si compone di due parti. Una che è la componente economica che viene data con una cab che arriva direttamente alla famiglia. E un'altra componente è quella della presa in carico della persona. I servizi territoriali, i servizi sociali, assieme a un equipo multidisciplinare, assieme alla famiglia, decide qual è il suo percorso per reinserimento sociale e lavorativo attraverso un progetto personalizzato per la famiglia. Con un obiettivo, il lavoro. Passiamo dall'assistenzialismo a una misura che accompagna le persone, prende in carico le persone e mette al centro la persona. Questo è quello che noi crediamo sia il modello per uscire dalla povertà.